ricordi irrequieti è tutto qui adesso mi vede una sega fatemi uscire da qua dentro porca puttana oh cazzo lui c'è non lo aspetta oh no è accesa mamma mia i volanti silenzio sforzando di continuo mangiano altri ratti madonna hai quanta medaglia devo darmi una medaglia raga oh cristo cristo oh mio dio oh cristo che cazzo sei cosa stracazzo sei io la faccio correndo pronto via via corri corri vi prego non fatemi prendere male la speranza uccide la mente dentro non posso immaginare cosa vedrò salendo questo ascensore pronti scerci pronti ah nulla abbandona la fin che puoi la speranza ah buono abbastanza del cacchio rimasso lì così c'è sta stanza nera oh cazzo un topo volante ah qua dove ero io prima ok io ci devo entrare qua dentro che è devastato sto bagno ragazzi manchia l'acqua nera no 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 un bambino morto quello che evaporato prima c'è addosso oddio oddio oh cazzo fatemi uscire da qua dentro fatemi uscire da qua dentro ah guardate che si accende qualcosa guardate la maniglia quando schiaccio ecco ecco sto davanti alla porta se non mi può chiudere dentro occupatori di cofice inutri di me mi fanno impazzire troppo rapide ma che cosa stracare stanza quadrata dove scegliere una tra le tre porte io porto da destra si apre, oh però è chiusa un muro bene, avanti per la prossima un altro muro, molto bene ottimo ti ritorno indietro dai, ormai sei credo oh cazzo ragazzi questo corridoio è bellissimo mi fa sballare di brutto cazzo ragazzi non si vede davanti raga oh cavolo scendiamo la luce ottimo che cazzo sei? ha un pendolo forse allora l'ultima volta che sono andato col pianoforte mi sono preso davvero male il primo capitolo riproviamoci ancora posso suonarlo? oddio, tu dove vai? oh cazzo suonarlo ancora? no non stonare per cortesia che mi cambiano le cose in testa ah posso anche spingerle? oh oh che figata ci passo in mezzo via via oh ma perché mi sei evitato la brutta scatola? figa che tira oh ma che bello oh dove sono? non vedo un gran cazzo vuol cosa nel fondo scerci la mia unica fonte di luce i needed to remove the flesh from the bone at first i was lost as to how but then i sawed it off with a handsaw boiled it then put the bone in a mortar i had to get one obviously this was not something i'd done before finally i mixed the dust with some white paint made for a lovely undercoat mettiamo anche questo elemento al nostro disegno via non riesco a dire di cosa si tratti c'è una forma o un parolone? ok qua ah sono tutti gli elementi che abbiamo trovato in questi in questi capitoli ah e tutte le cose che hanno detto quando li raccoglie mamma a guardare il numero degli armadietti qua mancherebbero ecco uno due tre capito e nulla ragazzi quella porta lì la vedremo nella prossima puntata se il video vi è piaciuto un bel like iscrivetevi al canale perchè non posso continuare ad andare avanti così senso cioè io rischio la vita che cazzate stazzo e nulla se questo video vi è piaciuto ci risentiamo alla prossima con Liars of Fear buona a tutti stage buona a tutti bella stage ciao